Andiamo, ce ne andiamo. Partiti. E' un vantaggio rimbomba davanti a Prensapollo, Arabesco e Jay Cooper, Bramananda, Nudless, Olympic Fire, Blonville, Capesaro e Indos Bank. Dopo 200 metri di corsa, rimbomba, Arabesco e Jay Cooper, conducono davanti a Prensapollo, Nudless, Blonville, Olympic Fire, Indos Bank all'inizio della curva. E' un vantaggio arabesco davanti a Jay Cooper, rimbomba, Bramananda, Prensapollo, Nudless, Blonville, Indos Bank, Olympic Fire e Capesaro. Poco prima dell'ingresso di turma, in vantaggio arabesco davanti a Rimbomba e Jay Cooper e Bramananda. I cavalli entrano in dirittura. Con Arabesco in vantaggio, davanti a Rimbomba, per linee interne, Nudless, a centropista, Bramananda, seguono Capesaro, Indos Bank, in leggero vantaggio, Bramananda, davanti a Nudless, Capesaro, Indos Bank, a centropista, per linee interne, Olympic Fire e Blonville. Passa Capesaro davanti a Nudless, Bramananda e Indos Bank, in vantaggio Capesaro, attaccato all'interno da Nudless, resiste Capesaro davanti a Nudless, Bramananda e Olympic Fire. Il numero 6 Capesaro, Gabriele Pietorini in sella, resiste al serrate conclusivo del numero 1 Nudless. E' tutta qui la corsa.